Ci sarà il sorteggio in pubblica adunanza nell'Aula Consiliare il 1 settembre alle ore 10 per la nomina degli scrutatori per le prossime elezioni del 25 settembre, quando si voterà sia per il Presidente della Regione Siciliana e i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, nonché per i componenti della Camera e Senato della Repubblica. I criteri di nomina degli scrutatori sono stati scelti dalla Commissione elettorale, riunitasi proprio il 24 agosto, e che preannuncia ad un mese dalle consultazioni che provvederà anche alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori composto da 4.730 iscritti dei sostituti in caso di impedimento o rinuncia, e alla nomina di ulteriori scrutatori si legge nel verbale scegliendo fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente all'esigenza di funzionamento dei seggi da costituire. Il sorteggio verrà anche preceduto due giorni prima da un manifesto affisso all'albo pretorio del Comune.